La partita è difficile perché nonostante loro in questo momento siano magari in difficoltà per l'assenza di alcuni giocatori, comunque è una squadra abbastanza corta, è riuscito a vincere due partite, quindi avversari temibili. Andiamo da loro, quindi avranno anche il vantaggio del fattore campo, è una squadra forte sotto canestro, quindi sarà un banco di prova importante per noi. Una partita a Iesi fra due squadre che stanno bene, che hanno avuto ottimi risultati, ultimamente mi riferisco alle due vittorie del campionato ciascuno, non parliamo di sfida al vertice perché sarebbe ridicolo dopo appena due partite, però può essere un riscontro per quanto stiamo bene in questo momento e i risultati dicono questo. È una squadra secondo me validissima con un ottimo quintetto, forse alla panchina ha qualcosa a meno di noi, dovremmo essere bravi a giocare con grande intensità per cercare di approfittare di questo piccolo vantaggio che abbiamo.